di giorno al tramonto tutt'altra storia insieme alla fontana però è il turista il protagonista anzi più protagonista il turista della fontana della quale magari non c'è neanche documentato per loro è importante la foto ricordo il selfie per far vedere io c'ero ik fuit una folla di assatanati di selfie bernini e autorevoli amici saranno un po straniti secondo me anche perché le cronache stive hanno raccontato del vandalismo diffuso a roma poi tutto scompare perché la concentrazione sull'acqua a roma e sul colore della subaru for adventure al sopravvento e così mi immergo non nella fontana semmai nella fontana vista dall'ottica nikon esaltante